Salute e benessere, parliamo di riposo. Dormendo 8 ore al giorno, una persona passa circa un terzo della propria vita riposando. Un sonno profondo, sano e rigenerante è fondamentale per la salute fisica e mentale. Il sonno è il miglior rimedio che ogni uomo ha a disposizione per stare bene e per affrontare al meglio la giornata lavorativa, nella famiglia e quant'altro. E avere un buon supporto dove appunto riposare diventa obbligatorio per una scelta di vita sana. Un'azienda ormai che ha oltre 50 anni e che opera nel settore del banding, quindi materassi e sistema riposo, reti, sommier, testate e letti. Il nostro grande punto di forza, che oggi forse siamo gli unici a poterlo vantare, è che noi produciamo tutto quello che viene poi commercializzato con il marchio d'Orela. Nel senso che noi, fin da quello che è la produzione del viscoelastico, quindi di queste materie innovative, ai molleggi, ai tessuti e tutto quello che riguarda il sistema a riposo viene fatto internamente nei nostri stabilimenti. Quindi tutto quello che esce è certificato da organi esterni, tipo la certificazione di igiene, cosa che nessuna azienda può vantare in questo settore, fino ad arrivare al CE, cioè sarebbe il dispositivo medico, EgoCert e quant'altro, ISO 9001. Quindi oggi siamo forse l'unica azienda che può dare queste garanzie in assoluto. Esistono tante tipologie di MyForm, di Memory, di viscoelastico e quant'altro. Uno dei pochi svantaggi che dava il Memory era quello di dare una sensazione di calore, perché avvolgendo il corpo dava questa sensazione di calore. Un nostro Memory Clima ci permette di poter dormire anche sul Memory in estate. È un Memory particolare a cellule molto molto aperte che non si avverte appunto il calore manco in estate. Una cosa da tenere presente nei nostri materassi, un po' che non sempre succede, è la sfoderabilità che uno, aprendo quello che è il prodotto, riesce a vedere poi internamente come è fatto e su che cosa sta dormendo, perché non sempre questo avviene. Dunque la scelta del materasso è importante. Ne parliamo da Arredamenti 5 Grana a Sant'Arpino, dove si può trovare una vasta esposizione di materassi d'Orelan, per poter scegliere con serenità come riposare e quindi stare bene.